Attaccheranno a vista qui. Attaccheranno a vista. 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 Attaccher empower bars. Attaccheranno a vista. Sì. 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 Ispeziona l'aria, Sinin. Sì. Hey, Lord! Tu attasiano dei? Verso il mare! Vela fuori! Abbiamo una storia epica. Forse non lo sapete, ma Ragnar Lothbrok una volta mi chiese di comandare il suo primo assalto in Inghilterra. Dev'essere successo otto, forse dieci anni fa. È difficile da dire. Gli inverni si confondono l'uno con l'altro come nebbia bianca. Ma lo ricordo come fosse ieri. Ragnar si presentò alla mia porta, all'improvviso. Io, naturalmente, lo accolsi. Aveva viaggiato a lungo solamente per vedere me. Così gli versai della birra. Gli offri... Continueremo dopo. Cantate qualcosa! Chi racconta una storia? Avevo undici anni... Andremo avanti dopo. No, non è il momento. Voglio una canzone! Diamo una storia. Tempo fa, incontrai uno scaldo errante alla ricerca di uno Jarl o di un re da servire. Non componeva versi da anni. E temeva con l'inattività di perdere il dono. Gli dissi che conoscevo di persona molti uomini importanti. Qualche Jarl e almeno una manciata di re. Ma per quanto lo sapessi, tutti avevano già i loro scaldi. E' più d'uno. Ricominceremo da qui. Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. che succede? a tutti. 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 a tutti.